Ragazzi è arrivato quel momento della stagione come completare il pass battaglia della stagione oggi nel modo più rapido possibile Ecco il video che tanto stavate aspettando e io oggi ragazzi vi do i miei consigli per completare e salire di livello nel modo più fast Visto che questo pass battaglia sarà anche più corto certo ma la stagione durerà solo un mese E quindi se magari stai recuperando questo video negli ultimi giorni perché sei arrivato in ritardo Oppure sai che non potrai giocare per tutto questo tempo ma dovrai completare subito il pass Allora guarda per bene questo video Come prima cosa se intanto vai a comprare il pass battaglia ti ricordo di inserire Dave14 nel negozio oggetti perché mi darai un grandissimo supporto Come vedete ragazzi io ho già sbloccato Omega Ragnarok e sono a livello 44 Questo video lo sto facendo lunedì 6 novembre Questo vuol dire che in 3 giorni ho fatto tutti questi livelli Anzi mi sono anche trattenuto potevo farne di più Ma adesso raga vi spiego cosa dovete fare per completare il pass battaglia nel modo più easy possibile Ovviamente non c'è bisogno che ve lo dica che giocare le mappe creativa adesso ci dà punti esperienza Non come quando giocavamo nel capitolo 1 quando eravamo sfortunati dovevamo fare delle missioni impossibili Ma basterà giocare delle missioni in creativa per completare e fare XP UFN o missioni creativa normale fare qualsiasi cosa e siete a posto XP easy Ma le spin creativa non si può sempre fare perché c'è un cap ogni giorno e non potrete sorpassarlo Vuol dire che raggiunto il massimo dell'esperienza fatta in creativa Non potete farne di più Allora vi dico come farla nel modo più veloce Su Fortnite Battle Royale Oltre al fatto ragazzi che escono tantissime missioni come quelle settimanali che usciranno ogni settimana di questa stagione E già quelle base le abbiamo quasi completate tutte penso Oltre al fatto ragazzi che abbiamo anche le missioni chiave Che quindi basterà completare queste qui fare lo scudo danneggiare aprire forzieri ogni volta E completare queste qua bonus che ci regaleranno altri punti extra E in più le missioni della classifica che vabbè sono proprio complicate Però se giocate in ranked avete già sbloccato tutto quanto Dopo aver completato 10 partite con le loro quest beccherete 20.000 XP Che mica le buttate Ma ci sono delle missioni segrete in questa stagione e adesso raga ve le faccio vedere Infatti per chi non lo sapesse nella mappa Battle Royale ci sono degli easter egg nascosti Che sarebbero questi gnomi che si vanno a raccogliere e vi regalano 20.000 XP Non sono delle missioni che compaiono qua Semplicemente trovate questo punto esclamativo sopra uno gnomo Lo cliccate e avete raggiunto dei punti Basta Questa qui è una mappa che state vedendo dove vi spiega tutte quante le location degli gnomi Fate lo screenshot, salvatevela Questa qui vi sarà molto utile quando andrete in giro per la mappa per trovare questi gnomi Che ragazzi vi regalano tantissimi punti esperienza senza fare niente Ma adesso sinceramente andiamo a vedere cos'è che ci regala davvero un casino di XP Lo volete vedere? Beh ragazzi stiamo parlando di salva al mondo Perché salva al mondo come vi ho già spiegato in tutti questi anni che faccio i video Regala tantissimi punti esperienza Esatto, completare delle partite su salva al mondo ci regala punti esperienza per il pass battaglia della Battle Royale Ma il miglior metodo per formare punti XP senza faticare è fare le endurance Cioè la difesa della casa base Il primo livello insomma che trovate nella mappa Fate le prime dieci volte la difesa per la storia Avrete la modalità all'infinito Che in realtà dura solo 30 ondate di zombie E dura circa due ore e mezza Ovviamente chi c'ha voglia di stare a giocare due ore e mezza Ma se voi costruite una base come quella che state vedendo qui nel video Potrete fare una base automatizzata a uccidere automaticamente tutti quanti gli zombie ogni volta Quello che faccio io ragazzi è ritagliare due ore del mio tempo Che non gioco a Fortnite ma magari esco Magari vado a fare la spesa Magari vado fuori con gli amici o che ne so Metto due ore, lascio il computer acceso che fa tutto quanto Torno e mi becco un casino di punti esperienza Adesso ragazzi non so bene quanti sono i punti XP che si possono guadagnare con questo metodo Dovrebbero essere 341.000 Penso qualcosa del genere Ve lo scriverò qui se ho trovato la cosa Nel caso sono comunque tantissimi punti esperienza Che vi possono regalare circa 5 livelli ogni volta che completate questa cosa Questo vuol dire che 300 qualcosa mila punti esperienza Fatti in due ore senza fare niente Mentre andate a farvi i cacchi vostri Penso siano molto utili Sfruttate quest'occasione per completare il pass battaglia Soprattutto perché ci saranno ricompense bonus Che dovremo sbloccare dopo aver completato il pass E quindi superato il 50 e sbloccato Omega Ragnarok Ma poi ci saranno anche altre ricompense che arriveranno sbloccate nei prossimi giorni Che saranno verso il livello 100 da quello che si sa E quindi saranno stili extra per le skin Letto questo ragazzi Buon farming Buona continuazione a tutti quanti di questa stagione oggi E vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto Per rimanere aggiornati su tutti i prossimi miei video